Terzi del campionato, l'allenatore Dele Rezzo sa bene che la posta in gioco è altissima e la rosa delle pretendenti è ormai ristretta. Il momento è determinante, di solito dopo due terzi del campionato c'è un'indicazione ben precisa, però che sia il passaggio determinante lo spero e me l'auguro, che ci creda totalmente, direi che dopo due terzi del campionato l'indicazione è chiara e sicura e che c'è tre squadre. Indiani ha ricordato un aspetto importante alla squadra, mettendo l'indice sulle particolarità di questo campionato. È un campionato, non ripeto, per l'ennesima volta, molto molto diverso rispetto all'anno scorso. Fino a domenica scorsa con la sconfitta Salinga e Monte Spaccato si dicevano, ecco una è andata, è andata a vincere Grossello. Il Terranova dove siamo andati noi, ultimo staccato, diciamo, ah bisogna faccia un miracolo, nove punti in tre partite, con due vittorie con le prime due della Lassifia. È un campionato talmente, direi, difficile. In vista dell'arrivo del Givi Borgo, diretto da Maccarone, indiani, sapere che non sarà una passeggiata. Il Givi è la squadra che ha pareggiato di più. Significa che è una squadra che gioca a calcio. Lo dice all'andata e lo ripeto ancora più oggi. È una squadra che tenta sempre di giocare, tenta di giocare, forse è una delle poi che si affida il lancio lungo sporadamente. Gucci non sarà della partita e Persichini ha la grande possibilità. La settimana l'ha fatta bene e giova lui, giova lui perché l'abbiamo presa apposta sia per giocare insieme, Gucci sia, che quando mancava Gucci. Domani c'è questa eventualità e spero, credo, che sia molto bravo a sfruttarla. E sul gesto in settimana di Tigani, ecco il commento dell'allenatore dell'Arezzo. No, noi ci importa un po', ecco, sono cose che chi le fa, credo, nel giudizio. Guarda adesso, il problema è che è bravo un giocatore.